Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti Allora, si lo so i capelli un po' così Ma voi guardate Voi guardate a me, non i capelli Vabbè, dettagli Allora, questo è un video di ginnastica Per fare ginnastica con voi Dunque Non farò nessun blocco Registrazione, ovvero non chiuderò il video Ma bensì Andrò a montarlo Quindi lo prendete per quello Lo prenderete per com'è Quindi, niente Allora, no vabbè, a parte lo che taglio lo farò Comunque, nulla Non lo posso contendere, per me non l'ho mai detto Comunque ragazze, questo è un video di cacchiericcio Barra ginnastica Perché poi pomeriggio non so se ne voglio o meno Quindi farò un po' di ginnastica adesso A stomaco vuoto Poi, ovviamente Siccome è già mezzogiorno o qualcosa Mezzogiorno e venti, non mi ricordo Comunque non importa Se mi dovesse chiamare mia nonna Alla fine Sto per il video Poi lo ripropongo Sì, vabbè, ciao Come no, certo, sì Lo riregistro Mentre sto mangiando Non lo so, vediamo Anzi, se mi va a me Vediamo E niente Come state voi? Io sto bene E in questo periodo appunto di quarantena Sto dedicandomi a varie attività casalinghe E quindi questo vuole essere un video casalingo appunto Dove vi faccio un po' vedere la mia attività da casalinga appunto Come vedete sempre nei miei video Poi A breve Farò il video della mia skin care Sempre se mi riesce Perché sono struccata Non sono tanto truccata Anzi Come vedete sono proprio completamente struccata Vediamo un po' cosa riesco a fare E niente Adesso qua Mi metto qua E cerco di Come sul dire di Cerco di Slaiarmi A fare ginnastica Ok? E comunque Ora abbasso l'inquadratura E mi metto a fare ginnastica Solo così Non vedete Una beata mazza E mi tocca di Oh signore Sì Appunto Io lo dicevo qua che mi veniva male Già Vabbè aspettate un attimo Uno Due Tre Ragazze Non sapevo come mettere Che ho dovuto mettere In questa posizione Che non so neanche cosa vedrete Comunque ora Proseguiamo a fare ginnastica Nonostante vedrete Poco e niente E niente E niente Dunque Allora Ce li siamo Non mi va tanto di fare ginnastica Però volevo conversare un po' con voi Dunque cosa dirvi Bello Che sinceramente ho sentito Di rumori strani inquietanti in camera mia Non lo so cosa siano Comunque Voglio evitare Di fare ginnastica serenamente Tranquilla Perché c'è una cosa che non mi torna I rumori che ho sentito Quindi nisba Non se ne parla che faccio ginnastica E ribadisco ginnastica Con dei rumori che Voi direte ma che rumori erano Non lo so non lo voglio sapere Forse era il mio stomaco Forse era qualcosa di veramente orribilante A dire poco Voi direte ma di cosa stai parlando E appunto Di cosa stai parlando Non lo voglio dire perché Già questa cosa che ho sentito Mi è un po' Come devo dire Scioccato Sciocobasito Per non dire Mi è un po' sbalordita E non vi voglio dire cosa parla Se lo so che così non capirete male Di cosa sto parlando Però Cerca di capire che se lo nomino Non si sa mai No non è Una cosa Per niente bella È bruttissimo È bruttissimo da capire Però Va bene Mi è sembrato aver sentito qualcosa di anomalo In camera mia Che il che non c'è niente A avere paura Però Ho sentito i rumori poco simpatichi Quindi poco simpatichi Poco simpatici E quindi niente Preferisco evitare di fare Di stare troppo tranquilla Perché chi è troppo tranquilla Aiuto Già E niente Allora Nel frattempo Stanno levando una valanga Di messaggi Di notifiche Da Instagram E da ogni dove Dei social Quindi nulla Anche da Youtube Non solo E Non lo so ragazzi Io volevo fare qualche video Mentre mangio Ma Alla fine Mi sa che non lo faccio Però Nel frattempo Volevo dirvi che Tra poco Offro la skin care Non questa Ma Non questo in questo video Ma in un altro E Nel frattempo Volevo fare anche qualche video tag Dopo questo video Non so quando E non so se riuscirò Però Mi segno tutto qua dentro Vedete Tutto qua Qua Già E niente Bene ragazze E Non so cosa dirvi Se riuscire a fare questo video Ben fatto Perché Non lo so Se riuscirò a farlo Cosa Questo video Perché Oggi Veramente Avevo voglia di fare un contenuto Fatto bene Ma non so Cosa Caspita Nel sciro fuori Perché Volevo anche truccarmi Ma siccome Non mi Riesci di truccarmi Perché Non c'ho voglia Nella verità Quindi Nulla Tra l'altro Qua Qua Ho visto Una bellatina Di altri prodotti Che devo buttare Perché l'altro E gli ho recensiti E altri prodotti Che invece Devo Devo farvi vedere Già Nel frattempo Le lupi Non so Voi Ma io Ho fame Cosa Che oggi Devo mangiare Ah si Bastoncini Che stanno Per essere Beggi Comunque Non importa Io mi sono Andata La graffietta Qui E quindi Ho deciso Che Oggi Mancerò Bastoncini Perché Non voglio Bastoncini Di pesce Buonissimi E niente Dunque Cosa Volevo dirvi Che Non vedo Ora Che finisca Tutto Questo incubo Dell'Italia Non ne posso più Veramente Voi direte Porta pazienza Prima o poi Finirà Andrà Tutto Bene Una parola Andrà Tutto Bene Bah Vabbè Già Ok ragazzi Io vi saluto E Buon pranzo A tutte Ciao